C'è trepida attesa per la prima puntata che avrà come protagonisti Andrea Cerrioli e Ivan González. A Uomini e Donne, Maria De Filippi prova l'ennesimo colpaccio dopo vari troni, purtroppo rivelatisi un flop. Da Sara Afif è la Mara Fasone, di tronisti che negli ultimi anni hanno deluso pubblico e aspettative, purtroppo, ce ne sono stati. Il secondo tentativo sul trono di Andrea Ivan potrebbe però essere l'occasione giusta per risollevare le sorti dello show. In molti credevano, tuttavia, che sul trono sarebbe arrivato Niccolò Ferrari, ex corteggiatore di Niloufar a dati oltre che ex tentatore a Temptation Island B. Negli ultimi tempi, è stata Carina Cascella ad accusare Niccolò di mirare al trono. E' arrivata proprio dopo la presentazione dei nuovi tronisti la risposta di Ferrari alla nota opinionista. Niccolò Ferrari parla dei nuovi tronisti e, cosa vi devo dire? Io non ho replicato alle storie perché mi sembrava inutile farlo. Fa sapere Niccolò Ferrari su Instagram in merita le dichiarazioni fatte da Carina Cascella, a me piace molto Carina, la segue. Però ha detto delle pecionate allucinanti. E vabbè pazienza. Per fortuna io non ho bisogno di implorare nessuno. Niccolò tiene però a dire la sua anche sui nuovi tronisti, che lui ha conosciuto proprio nel corso della sua avventura a Temptation Island B. Sono contentissimo per lui e anche per Ivan. Ammette Niccolò, che conclude, a Temptation ho imparato a conoscerli, sono due bravissimi ragazzi ve lo garantisco. . Imparerete a conoscerli anche voi. Li sostengo, li guarderò sicuramente e quindi insomma, sono felice per loro. . 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